Ciao a tutti, sono WhatRose e oggi vi parlo dell'importanza della connessione con il nostro sé superiore. Sappiamo bene che non possiamo essere davvero del tutto sconnessi dal nostro sé superiore perché è parte di noi, ma per vari motivi potremmo non sentire questa connessione. Quando accade questo? Dunque, quando siamo costantemente preoccupati o ansiosi? Quando siamo sempre distratti? Quando proviamo rabbia o un risentimento represso? Quando ci sentiamo bloccati sulle situazioni del passato? Quando ci sentiamo intrappolati nella quotidianità e non riusciamo a vedere un quadro più ampio? Quando invece sentiamo la connessione forte con il nostro sé superiore, siamo focalizzati sul nostro scopo più elevato, riusciamo a percepire la calma interiore e quindi siamo anche più comprensivi, siamo più ricettivi riguardo ai segnali che ci invia l'universo come simboli, numeri eccetera eccetera e siamo più intuitivi. Inoltre, siamo portati a rimanere fiduciosi anche nei momenti più difficili e dolorosi. Ecco perché è davvero importante mantenere costantemente la connessione con il nostro sé superiore. Per oggi è tutto, a presto!